A seguito dei fatti avvenuti a Gela, lo scorso 24 ottobre si è tenuta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con cui è stata disposta un'ulteriore intensificazione di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Già martedì e mercoledì le unità della Polizia di Stato e del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito numerosi controlli per cercare armi esplosivi e stupefacenti in specifiche zone della città, che sono luoghi legati al mondo della delinquenza, due gli arresti eseguiti in flagranza di reato, uno di un 49enne che per sottrarsi al controllo ha fatto resistenza e violenza e minaccia al pubblico ufficiale e l'altro un 29enne evasò dagli arresti domiciliari eseguiti su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela. I due uomini sono adesso agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altri due sono gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica gelese, il primo nei confronti di un 29enne condannato a scontare una pena di 6 anni e 4 mesi per diversi furti aggravati e il secondo nei confronti di un 38enne condannato a scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione per reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Ben 13 le persone denunciate in stato di libertà dal commissariato di Gela, vario titolo per reati contro il patrimonio e contro la persona, sequestrato anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa e sequestrata anche cocaina e hashish per uso personale nei confronti di due assuntori segnalati alla Prefettura Nissena. Nel corso di 12 posti di controllo effettuati in città sono state identificate 508 persone di cui 293 gravate da pregiudizi di polizia, 8 le perquisizioni eseguite, controllati 224 veicoli, 56 tra arrestati e detenuti ai domiciliari, liberi, vigilati e sorvegliati speciali, rilevate 40 infrazioni al codice della strada con il sequestro di 3 veicoli.